Ho bisogno di me prima che vada a dormire, signorita Isabella? No, va pure, Maria. Tutto quello che mi serve è un buon sonno ristoratore. Allora, buonanotte, signorita. Che cosa fate qui? Che cosa volete da me? No! No! Lasciatemi in pace! No! Lasciatemi andare! Silenzio! Il potente Tolkien ti attende! Liberatemi immediatamente! García, chi è quel mostro spaventoso? E che cosa ha fatto alla vostra mente? È Tolkien, il nostro padrone, signorita. E il capitano Monteserro è al corrente di questa nuova collaborazione? Ah, molto bene. Vedo che questa vittima è ricca di volontà ed energia. Ottima scelta, miei servi fedeli. Oh! Voi chi siete? E che cosa volete da me? Oh, desidero solamente la tua forza vitale e nient'altro. Lasciatemi andare via! Spettetela! Per favore, mi prego! Basta! Pure la tua mente e la tua essenza sono mie. Isabella, anche tu! Bravissima mia schiava. Tu distruggi il totem. Io intanto mi occuperò definitivamente di questo vile mortale. E va bene. Perdonami, Isabella. Zorro, ma dove siamo? Che sta succedendo? Torniamo a casa! Dimmi, che cosa mi è successo? Perché sono in questo posto con la camicia da notte? Sono arrivata fin qui da sonnambula. Diciamo qualcosa del genere. Via!